Diamanti, la mette dentro nell'area, Nestorowski! Il pareggio del Palermo con Nestorowski su grande azione iniziata da Alessandro. Il terresimo dopo un batti e ribatti in area, Palomecque ristabilisce la parità per gli ospiti. Finisce quindi 2-2 con tanto nervosismo. Chiesitao, l'Argentino, sabato, fustato, l'opera, si di bala, Rodríguez, catapletico! 2-0 con il termo di Patito Rodríguez. 3-0 con il terremoto. 4 standard Liège here tonight and it was a goal so simple in its making. A long kick out, the head of one, Saar with the flick on and Belfodil just ran in behind. And then the rivals, the eternal rivals, Olympiakos away from home as Belfodil makes it three. Throttle till the end, the ball into the box from Baribanga and Belfodil just wanted it more. Got that ahead of Bracumis and Steele couldn't get out quickly enough. And there is it Nilsson. Auch he worstelend with the ball. Buitenkantje rechts, the floor set. That's a good day, there is Belfodil. Do it on! And the goal, jawel. It is very easy, Belfodil. He's got to be a good day, he's got to be a good day. che tonteria che tonteria per Cristaldo tiene que tomar las medidas bien claras fíjate de que manera e ojo con la rodilla fíjate como se dobla la rodilla e Tobío tambien ojo porque esta entrada no es fácil para soportar un jugador a eso entró es un criminal este tipo innecesario entró y la intención se ve dentro de los homens de que yo Grazie a tutti